ciao Barbie Family bentornati in un nuovo video ma dov'è Alessia? ok guardate oggi è da un po' che è sfocato sono sfocati il mio occhio gli ovetti kinder del sonic della sonic della zaini c'è una sorpresa tre testa no un pacchetto a testa per trovare la sorpresa ma non ti mangerai mica tre ovetti kinder scusate sembra quello della kinder vero no aspetta adesso e sgancia dai scegliete quale vuoi uno speriamo di trovare sonic andiamo l'apertura sempre quelli kinder vediamo com'è chi trova sonic ma perché ho un codino qua chi trova solo ne 15 euro no questo e come è la vostra guardate sonic voi com'è Ale com'è il tuo cosa c'è chi c'è c'è quello rosso no c'è la femmina lei poi ah beh guana mio ok tu sonic come me come me erano gli ultimi tre li ho presi io andiamo all'apertura e il nanto sonic andiamo all'apertura no 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 vediamo com'è a oggi piove e il tempo è brutto io non ho avuto sonic come l'uovo sembra quello del lovetto kinder della ferrero non poi c'è ma ragazzi uguale vediamo se è uguale uguale buono ma cos'è ma io ho trovato macchinina sì beh quello della kinder è kinder eh però però niente male basta la macchinina gialla che a me mi viene nervoso io ho questo cos'è io ho questo Alessia ha trovato questo questo roba questo roba vabbè ciao andiamo avanti ho rimasto un pezzo è trovato dai non l'ho trovato io ma cos'è sta plastica rotta anche io ho la plastica cioè ma non si può fare delle sorprese così con la plastica ro cioè che piegano la plastica così in questa maniera così ti hai trovato tu ma dai ma che cagata ma vaffanculo va dai ma che vergogna 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 dai perché si può trovare una sorpresa eh eh sì qua c'è il 3d è oh è 3d anche eh quindi cos'è l'ho trovato fa vedere vabbè guardo l'altro cosa hai trovato tu? canestro? boh vabbè io non ho parole che vi fa? eh? ma che c'è? è bucato? è bucato? è bucato? sì però adesso cosa ho trovato? cos'è? ah è il cattivo di di sonic vabbè vabbè io ho trovato mucche cavallini cosa sono? sì quelli no 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 se tu ho trovato che cosa è questa roba? mi dai la checklist? di sonic oh non mangiatevi tutti gli oveti kinder eh ecco la checklist vabbè c'è l'ho pure io? no vedi che c'era il sonic uffaaaa c'era uffa 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 si merdine danno che nervoso che a montare ti viene solo apri la bocca no eh ma sei fuori? è caduto qualche cane? no qui guarda il mio gioco ma non si monta neanche ma va va dove si monta? corriandoli ma non si monta neanche perchè ah si può già fare ecco il normale deve essere uno su tre ah questo è lo quale si perchè noi abbiamo trovato questo di sonic questo qua no qua dove va? boh non lo so nella pattumiera va ok sono arrabbiata ah questo si gioca creando le formine ma le formine nel suo cervello guarda 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 tipo così ma butta via tutto tengo solo questo ma va ma neanche butta via tutto via ciao macchinine e tutte cagate varie basta cioccolato diciamo sì dove è il mio pezzettino? si è come quello della kinder no no è il cioccolato bene amici con questo goloso video è tutto? goloso goloso fietoso 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 dove siamo andati a discount? dove siamo andati a discount? l'ins 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 l'abbiamo trovato no l'ins 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 mi raccomando continuate continuate a seguirci continuate a seguirci mettete like e anche questo butti? si tutto butto giochini tutto via ragazzi la macchina? con questo video è tutto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale attivate la campanella per ricevere la notifica dei nostri video e detto questo ciao da una mamma super avrabbiata che non ha trovato il sonic ciao basta basta ma quanto ne hai mangiato? no un eretto io mezzo ciao ciao